Mad Max Fury Road è un film del 2015, l'è diretto da George Miller, che qui ritorna alla sua saga di Mad Max per l'appunto, cominciata con, da noi si chiamava così, Interceptor, nel 1979, Mad Max, nella versione originale, e in realtà questo Fury Road è uscito quasi 30 anni dopo il film precedente, Mad Max, oltre la sfera del tuono. Questo film è un sequel, un remake, un po' un mischione di ambo le cose, e un po' qualcosa di ancora nuovo. È questo film in realtà la porta di accesso che io personalmente ho avuto per il mondo di Mad Max, una porta di accesso che fin dalla primissima visione è riuscita ad appassionarmi profondamente, e che adesso ho deciso di rivedere come parte del mio recupero di tutta quanta questa saga. Una saga che è riuscita a colpirmi in positivo, con i suoi capitoli più anziani otti, diciamo, e che adesso ho appunto raggiunto nella sua ultima tornata, prima del film che arriverà prossimamente, fra l'altro, in questo momento che mi sto registrando, furiosa. Questo film assume una luce diversa, adesso che l'ho visto dopo aver visto i film precedenti? Più o meno. Per certi versi, quando mi capita di recuperare delle saghe, per l'appunto, ho l'occasione di scoprire cose nuove, magari di vedere le cose con occhi diversi. L'opinione che avevo all'inizio di questo mio recupero, però, per certi versi, si è letteralmente mantenuta a mano a mano che ho recuperato i capitoli di questa saga. Mad Max Fury Road, lo pensavo allora e lo penso tutt'oggi, è il capitolo di quest'epopea di Max, per l'appunto, che ho preferito, e che preferisco, e che credo un domani magari preferirò. Mad Max Fury Road è una mina, è un viaggio, un viaggio costante nella Fury Road, per l'appunto, una strada lunghissima, in un mondo praticamente semidesertico, in cui ci sono magari qualche montagna qua e là, in cui il verde è praticamente inesistente, un mondo evidentemente apocalittico, post-apocalittico, un mondo in cui si trova Max, ma non solo lui. Questo film, nella sua parte iniziale, si sofferma sul mondo in cui si trova il nostro Max, qui interpretato da Tom Hardy, non più il Meg Gibson dei tre film precedenti. Il personaggio di Max si ritrova prigioniero di un gruppo di fili di guerra, così vengono chiamati, e sono degli sgherri di un leader, per l'appunto, che si chiama Immortan Joe, tra l'altro, interpretato da un attore, Hugh Kiesbine, che già fu il toy cutter nel primo film della saga, in Interceptor. Questo Immortan Joe è un uomo orribile, ma potentissimo. In questo scenario, dovutamente devastante e futuro, abbiamo infatti l'umanità, che per la stragrande maggioranza, è in difficoltà. Radiazioni, carestie, forse pestilenze, calore assurdo, che porta di fatto a essere alla mercè di questo Immortan Joe, che detiene una grande quantità di carburante e soprattutto di acqua, e che elargisce, stando appunto al suo volere. In questo frangente, in questo mondo assolutamente poco idilliaco, avviene che cosa? Avviene una spedizione, lungo la Fury Road, per l'appunto, per andare a recuperare, verso una cittadella vicina, dei rifornimenti. A guidare questa spedizione, dei fili di guerra, c'è Imperatrice Furiosa, interpretata da Shalisteron, che è per certi versi un po' una sorta di aralda, se vogliamo, o comunque uno dei più grandi guerrieri, che può vantare Immortan Joe. Molto presto, però, il personaggio della Shalisteron deciderà di deviare dal percorso, e scopriremo che in realtà mette in moto una sorta di ribellione, se vogliamo, con una fuga. Una fuga da quello che è, da quello che è il volere, per l'appunto, di Immortan Joe, e molto presto, lei, e non solo lei, incrocerà la strada con quel Max, che è stato brutalmente catturato dagli uomini di Immortan Joe, e che si ritroverà, chi ha visto i film precedenti lo sa, ad essere nuovamente un eroe, o un anti-eroe, a seconda di come vogliamo vedere un pochettino le sue reazioni agli eventi che accadranno. Un film pazzesco, un film pazzesco, che so essere stato nel cosiddetto Development Hell per tanto, tanto tempo, un film che quindi ha avuto una produzione molto travagliata, e che è uno spettacolo. È uno spettacolo sotto praticamente ogni punto di vista che può caratterizzare un film del genere. L'azione è al centro di tutto, un'azione che, in ogni frangente, è al tempo stesso freneticissima, e al tempo stesso estremamente chiara. Lo spettatore non perde una virgola di quello che vede, e riesce a godersi tutta quanta la meraviglia, che è, per l'appunto, la frenesia, il ritmo, l'azione, che caratterizza questo film Fury Road. Al tempo stesso poi abbiamo tutto quello che è il comparto prettamente tecnico di questo film. Abbiamo dei colori, delle luci, trucco e parrucco, scenografie, abbiamo veramente un qualcosa con cui rifarsi gli occhi. Questo film io ho avuto modo di vederlo in varie versioni, sia in HD, sia addirittura in 4K, purtroppo non ho mai avuto il piacere di vedere dal cinema, e addirittura ho avuto modo di vedere in alcuni frangenti anche la sua versione in bianco e nero rilasciata, in realtà, in versione a un video. Sinceramente, più colori ci sono nella tavolozza di un film del genere, e più è veramente un appassionarsi quello che il spettatore può fare. Perché questo? Perché questo film a tratti sembra veramente un quadro, e a tratti un qualcosa che non è per certi versi contemplabile tranquillamente come un quadro, ma anzi è veramente una storia avvincente, anche soltanto basata sulle immagini, che veramente rapisce chi sta vedendo, per l'appunto, questo film Fury Road. Fantastico. I momenti che maggiormente ho apprezzato da un punto di vista prettamente estetico sono stati in realtà, per certi versi, quelli che forse sono meno caratteristici in realtà di questo film, caratterizzato soprattutto da dei rossi, dei gialli, dei marroni, degli arancioni, così predominanti per l'ambiente che è appunto quello semidesertico di questo mondo post-apocalittico. I momenti che maggiormente ho apprezzato però sono stati quelli magari legati alla notte, quei blu, quei grigi, magari occasionalmente illuminati, in misura molto ridotta ovviamente, da delle piccole luci o magari, perché no, dal fuoco di una pistola. Pazzesco. Pazzesca la suggestione visiva che questo film riesce a dare, e dal tempo stesso quella che è la componente acustica, per l'appunto, una colonna sonora così inebriante che veramente fa venire voglia di prendere la macchina, la moto, quel che è appunto, e cominciare a viaggiare, viaggiare con la frenesia che caratterizza appunto ciò che stiamo vedendo. In generale, tutto quello che è il comparto legato al montaggio, al ritmo complessivo, è un qualcosa che mi ha veramente rapito e coinvolto, che ho trovato, per quanto limitati da un certo punto di vista, assolutamente funzionali i personaggi cardiei di questa storia. Abbiamo ovviamente un Max, questo ex poliziotto, evidentemente logorato, e imbruttito, diciamocela chiaro e tondo, da cose terribili che gli sono accadute, forse in parte che ha fatto, chi lo sa, che si ritrova ad essere, per l'appunto, un eroe o un antieroe, vogliamo, per l'appunto, lui che vorrebbe soltanto stare in solitaria, e questa cosa, dopo la vicenda di questo film, si ripresenterà, per l'appunto, andando a chiudere questa vicenda. Al tempo stesso, abbiamo però, secondo me, un'ottima interpretazione non soltanto di Tom Hardy, ma anche di Charlize Theron, che ci dona una imperatrice furiosa, veramente furiosa, per l'appunto. Pazzesca. La Theron riesce ad avere questo sguardo così magnetico, così incannesco, diciamocela chiaro e tondo, e dal tempo stesso, in alcuni frangenti, nei momenti in cui è magari sconsolata, perché le possibilità che vedeva all'orizzonte vanno a sfumarsi, la vediamo assolutamente atterrita e disperata. Veramente pazzesco, veramente pazzesco. Al tempo stesso, però, ho avuto modo di apprezzare anche i personaggi, se vogliamo secondare, comunque, secondo me, funzionali. Soprattutto mi viene da pensare, ad esempio, a Nax, interpretato da Nicholas Holt. Questo personaggio è uno degli sgherri di Morta Joe, malato, come sono praticamente tutti quanti, diciamo. Il nostro, inizialmente, sarà quello che sfrutterà Max, perché è donatore universale, per l'appunto, e questa cosa sarà molto rilevante al termine della vicenda, ed è un personaggio, quello di Nax, che rappresenta in alcuni frangenti questa frenesia che caratterizza l'esistenza dei vari figli di Morta Joe. Dei personaggi allucinanti, allucinati, per l'appunto, assolutamente ossessionati dal concetto di poter compiacere il loro padrone, il loro leader, e dal tempo stesso di meritarsi un Valhalla, un al di là, diciamo, una vita straordinaria, laddove renderanno, per l'appunto, onore al padre o, eventualmente, si sacrificheranno per il suo accrescimento. Pazzesco, pazzesco. Sono molto piacevoli, poi, anche gli altri personaggi di contorno, sia quelli oripidanti, più o meno parenti, o comunque conoscenti della gang, diciamo, o delle altre gang di Morta Joe, e al tempo stesso, poi, abbiamo, beh, le varie mogli, le varie mogli, che avremo modo di scoprire, e se in realtà le persone che la nostra furiosa vuole salvare da un destino terribile, oltre a salvare loro, cercherà la nostra furiosa di salvare anche gli eventuali figli, di Morta Joe e di queste, e sono veramente suggestive quando vengono presentate. E per certi versi, dopo momenti di azione così concitata e dopo tanta brutalità, o nel mentre di tanta brutalità, vederle in terminati frangenti, soprattutto all'inizio, quando vengono mostrate, per l'appunto, con tutto il loro più o meno candore, sono un qualcosa di veramente toccante a tratti. Che dire, questo film riesce veramente a stupirmi per la sua bellezza. Un film veramente di grandissimo intrattenimento che riesce ad appassionare. Mi è volato via, che è una bellezza dell'ennesima volta che lo vedo, l'ho visto diverse volte questo film, ma tutte le volte che lo vedo davvero vola via. Vola via perché? Perché è semplicemente un film che riesce ad usare ogni suo frangente, secondo me, nella maniera giusta, nella quantità giusta, per l'appunto, riesce a trasmettere sia un qualcosa di così concitato, sia comunque un qualcosa di, per certi versi, così semplice com'è. Una sorta di viaggio di quest'eroe, di questi eroi anzi, perché Furiosa, secondo me, è una coprotagonista perfetta, e anzi, i determinati frangenti è la vera protagonista di questa storia. E quindi, davvero, non posso fare altro che essere assolutamente contento di aver nuovamente visto questo Mad Max Fury Road, non posso fare altro che riconfermare che ora come ora, e credo anche in futuro, sarà questo, il capitolo del nostro Max Rokatansky, che preferirà in assoluto, e sono assolutamente entusiasta di poterlo consigliare apertamente. Guardatevelo, guardatevelo, guardatevelo. Sono sicuro che ne varrà la pena.